Musica Buonasera amici sportivi appassionati di rally, appassionati di motori, siamo qui per la 14esima puntata stagionale di Rombo di Motori. Quindi questa serata trascureremo poi relativamente il mondo del rally e parleremo in prevalenza di quella che è la realtà della pista, del campionato Endurance dall'italiano al mondiale. E quindi come avevo già annunciato abbiamo stasera nei nostri studi e lo ringraziamo per essere tornato a trovarci Riccardo Perra. Buonasera Riccardo. Buonasera grazie a voi. Come andiamo? Tutto bene? Per ora sì tutto bene. Iniziato il nuovo anno, ora siamo a 21? Quanti anni hai adesso? 20, sempre 20. No, a questa età, lo sai qual è la fortuna? Alla tua età, no? Che io avevo tanti tanti anni, non passano mai. Poi quando andrai più avanti, arriverai più avanti, vedrai che voleranno via, che non te ne accorgerai. Spendiamo di nuovo. Vabbè, senti, con te vogliamo parlare di tante cose, abbiamo anche diversi filmati da far vedere, dove sei protagonista anche di sorpassi strepitosi. Prima domanda che ti faccio, poi cominciamo ad entrare un po' nel tecnico e ci fai un po' la telecronaca di quello che vedremo. Una valutazione sul tuo 2019, come lo consideri, come annata agonistica, come risultati, come quello che ti ha dato in termini anche di crescita e di soddisfazioni? Ma intanto, parlando in termini di risultati, il 2019 è stato un anno positivo, perché comunque mi sono laureato vice campione europeo a bordo della Porsche 911 G3 RSR nel campionato europeo Endurance. Con Christian Reed nell'europeo? Con Christian Reed e Matteo Cairoli. E Matteo Cairoli, un altro pilota italiano. No, erano sei gare sparse per l'Europa, alla fine siamo laureati vice campioni, anche dovute a un bel po' di sfortune, soprattutto anche all'ultima gara, che è finita dopo mezzo giro, perché il mio compagno di squadra ha una carambola, ne è uscito con la macchina di... Era Cairoli o Reed? No, era Christian Reed. Ma ti rimane quindi, diciamo, titolo di vice campione europeo con i tuoi compagni di squadra? Forse mi sembra di capire anche un po' di rimpianto, perché probabilmente ce la potevate anche fare a vincere. No, era un bel campionato, siamo arrivati proprio in volata, però alla fine comunque, grazie a queste sfortune, anche e soprattutto... Purtroppo per queste sfortune. Purtroppo, sì. Grazie, è stato un grazie per gli altri. Chi è che ha vinto questo campionato europeo? Ha vinto la Ferrari. La Ferrari, sì. 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 No, no, nel senso buono, eh, nel senso che... Beh, insomma, comunque in ogni campionato Porsche Ferrari è una bella sfida. Sono squadre e macchine forti. È una bella sfida. Classico, direi, quello tra Porsche. Campionato europeo. Poi è fatto anche... Beh, c'è stata anche... Diciamo, avevi già fatto, se non ricordo male, c'era nel 2018 una prima prova del mondiale? Diciamo che è stato l'anno che ti ha lanciato anche... Esattamente, sì, sì. Alla ribalta mondiale, no? Il 2019, soprattutto, è iniziato in maniera, diciamo, egregia, perché nel mese di maggio, in solo tre weekend di gara, tutti affilati consecutivi, prima ho vinto la prova del mondo a Spa-Franco-Champ nella gara del campionato del mondo. Nella G-GT. Nella G-T, cioè il campionato... Nella vostra categoria. World Endurance Championship. E la settimana dopo abbiamo vinto la prova a Monza del campionato europeo Endurance, sempre a bordo della Porsche. Che sono due. E poi, la settimana dopo, a Misano, ho vinto la prova del campionato italiano Endurance, sempre a bordo della Porsche. Il maggio è stato un mese magico per te. Sì, maggio è stato. Hai fatto il tuo... Diciamo che a distanza di nove anni da quello calcistico dell'Inter, la cosa che io rimembro per il mio collega Bedini, hai fatto il tuo personale triplete, no? Triplete, sì. Vabbè, poi niente. Ma dicevo però c'è stata anche... Effettivamente a cominciare... C'è stata la rivalta mondiale perché adesso tu correrai anche a febbraio, poi ne parleremo nella fine trasmissione. Ma nel 2019 quante prove hai fatto del mondiale? Però noi abbiamo fatto i quattro. Quattro prove. Io ero a tre e quattro, quindi... Quattro prove. E adesso ne rimangono altre quattro. Com'è questo mondiale? Fammi un po' capire. Ma intanto il campionato del mondo è un campionato molto molto tosto. Siamo in tante macchine. E siamo al massimo livello, no? Sì, soprattutto sono gare... Quelle dell'Europeo erano gare di sei ore di durata. Mentre queste qua si arriva anche a 24, 8, 12. Quindi sono gare veramente difficili in cui può capitare di tutto. Quindi gare tutte di strategie. E poi alla fine magari alla prima ora sembra che sei un giro indietro. E poi magari vinci. E poi magari... Quando dici 24 chiaramente, ogni riferimento alla leggendare 24 ore di Le Mans. Che tu non hai ancora disputato. Non ho ancora disputato. E che disputerai però a maggio. Esattamente. Abbiamo fatto a fine agosto Silverstone. Poi siamo andati in Giappone, a Fuji. Poi abbiamo fatto Cina, a Shanghai. E poi in Bahrain. E ora rimane a 23 di febbraio in Texas, a Austin. Dove corre anche la Formula 1. Sulla stessa pista dove corre la Formula 1. E che prima corrono loro e poi la Formula 1. Poi abbiamo a metà marzo Sebring in Florida. Poi abbiamo sempre Spa-Franco-Champ ad aprile. La tua possiamo dire Spa-Franco-Champ. E poi a maggio o a giugno? A giugno alla 24 ore di Le Mans. Peccato! Io pensavo fosse a maggio. Visto che è maggio per te è un mese magico. Allora facciamo una cosa adesso. Apriamo una parente. Comunque è stato un 2019 sicuramente molto positivo per Riccardo Pera. Cominciamo a vedere delle immagini. Le prime che ti propongo, se mi sono sbagliato io e se mi fossi sbagliato mi scuso, ma dovrebbero essere relative a Barcellona. Possibile? Esatto, sì. Ecco, adesso la regia ce le fa partire. Anche perché in queste immagini noi vedremo, se non sbaglio, Riccardo Pera show. Cioè con una serie di sorpassi, no? Questa era la gara della Michelin Le Mans Cup con le B-Motors. Tu dove sei? Facci capire. Sono la Porsche dietro la Ferrari. Dietro la Ferrari rossa, naturalmente. Rossa, sì. E questa era la battaglia per la seconda posizione, perché comunque prima di me aveva guidato il mio compagno di squadra, perché in queste gare si corre in due piloti invece, e il mio compagno di squadra aveva preso una penalità. Ma chi era il solito Reed? No, no, questa qui era un'altra gara, era Alessandro Baccani, si chiama italiano, e aveva preso una penalità, quindi stavo cercando di rimontare il più possibile. Questo abbiamo detto è il circuito del Montjuic? No, questo qui è il Catalunia, dove corre la Formula 1. Sì. E qui questa Ferrari, non ti vedo che non ne vuoi sapere, ti dà. Tu evidentemente in questo momento sei più veloce di lui, no? Sì, qua cercavo di passarlo in ogni, lui si stava difendendo chiaramente. Ah, sull'esterno, ma come fai a passarlo sull'esterno? Eh, poi qua l'ho intruscente. Ah, ecco, avevi capito. Ma ci vuole un po' di tempo per studiare? Eh, bravissimo. Ci vuole un po' di tempo, quando seguiamo le corse, che sia la Formula 1, la MotoGP, ma chiaramente vale anche per il vostro campionato. Ci vuole, diciamo, quel giro, quei due giri per capire dove puoi infilarlo? No, certo. È che ci si butta subito dentro, rischiando poi... No, prima si studia un po' l'avversario. Ma stai in passato? No, no, queste sono sempre le stesse immagini, sì. Ah, è ripartito il video. Ah, è ripartito, eh. Sì, all'inizio cerchiamo di studiarlo un po', però ecco, appena, di solito io appena trovo un barco cerco di passarlo, ecco. E lì hai capito che affiancandolo sull'esterno poi ti ritrovavi sull'interno e quindi avevi la possibilità. Queste sono le immagini, questo sorpasso, di questi sorpassi di Riccardo Pera, che sei anche poi, diciamo, molto molto bravo in generale, ma molto molto bravo di più ancora sulla pioggia. Lasciamo queste immagini, Matteo Pedini, e adesso dovremo vedere poi proprio il tuo circuito. Quando dico il tuo circuito, ecco, quando dico il tuo circuito sai che parlo di Spa-Francorchamps. Esatto. Questo è un camera car e qui, credo che la camera non sia sulla tua macchina. No, questa è un camera car della prova del mondo a Spa vinta a maggio. Questa è la camera car di un'altra macchina, io arrivo sulla destra. Ecco, c'è questo. Questa macchina qua, blu, oro e nera. Qui si può. E qui, praticamente, ho passato 5-6 macchine in un'altra. Eh, vedo, stai sparendo. Esatto, non ci sono due. Quell'ora ti viene dietro, però, ha visto te. Eh, sì, però, vedi, questa è una Ferrari, lui è rimasto bloccato, sono più avanti. Poi c'è un'altra Ferrari davanti, sono quello laggiù con gli stop. Ma sei già laggiù. Esatto. Senti, ma, forse te l'ho già chiesto, ma chiaramente te lo domando ancora. Ma com'è che si fa andare forte sulla pioggia, sulle piste così bagnate, sotto una pioggia abbattente come questa? Quando è chiaro che noi da semplici, diciamo, automobilisti della strada, certe volte quando piove così, un po' di paura ti viene anche. Non bisogna pensarci. Intanto, grazie a quel sorpasso, quella gara lì abbiamo vinta perché eravamo quinti. Io avevo, quando sono salito io, era l'ultimo stint che facevo, eravamo quinti e nel giro di due giri abbiamo vinto la gara perché appunto ho fatto quel sorpasso lì di 5-6 macchine. Ma, ascolta, sul bagnato è sempre stata una cosa che ho sempre trovato un feeling giusto con l'asfalto bagnato. Forse anche dai tempi del go-kart mi sono allenato tantissimo sul bagnato e sinceramente, ecco, sul bagnato riesco comunque a trovare il limite della macchina. Non ci pensi e riesci ad andare, perché magari se uno ci pensa e non ha la bravura, l'abilità che hai dimostrato te, è facile, può andare anche fuori o fare danni, non è difficile. Molto facile, ecco, però insomma, ho sempre trovato il giusto feeling. Non è difficile, sicuramente. Senti, del 2019 se tu dovessi ricordare al di là del triplete un momento bello e un momento meno bello, poi dopo, chiaramente dopo la pubblicità ci proiettiamo al 2020 e a tutti gli impegni. Al di là del triplete, eh? Certo, al di là del triplete. Ma, ascolta, nel 2019 potrei, di momenti belli ce ne sono stati tanto, tanti. Anche, diciamo, la prova sempre a spa del campionato europeo Endurance, dove abbiamo finito secondi, però mi ricordo è stata una bella battaglia con la Ferrari che era davanti a noi, io ho recuperato, mi sembra, circa 12-13 secondi, poi siamo arrivati a fotofinish in volata. Addirittura. Eh sì. E' stato in corso di quattro ore, sei? Eh, quattro ore. Quattro ore si arriva. No, vabbè. E invece il momento, ci fu un momento un po' più, che non ricordi volentieri? Ma, il momento, diciamo, più brutto è stata la prima prova del campionato del mondo a Silverstone a fine agosto, una gara di sei ore, era proprio la prima e eravamo in testa 20 minuti dalla fine e abbiamo avuto una foratura, una foratura lenta, ci siamo dovuti fermare a box, cambiare la gomma e siamo ripartiti, ma e alla fine abbiamo concluso i quinti. Ecco, nelle prove del mondiale, diciamo, non sempre è andata come avresti auspicato, compresa anche l'ultimo in Bahrain. E questo fatto di Silverstone, secondo te, può avere inciso un po' nell'economia di tutto il pacchetto, compresa la squadra, oppure no? Ma, ascolta. Se le cose devono andare in un certo modo. Ma, alla fine, sì, le cose, diciamo, sono gare lunghe e imprevedibili. Eravamo in testa, perché comunque la velocità l'avevamo, l'avevamo dimostrata, però alla fine abbiamo forato, siamo arrivati i quinti. L'ultima gara a Bahrain, un mese fa, un mio compagno di squadra ha avuto un contatto con un'altra macchina, con una Ferrari. Proprio all'inizio, diciamo, nella prima ora di gara. Lì erano otto ore. Erano otto ore e per non perdere tempo ai box a riparare la macchina, abbiamo andato avanti sette ore. Col musetto danneggiato. Col muso, completamente sì, è staccato. Quanto incide il musetto danneggiato? Un 30%? Ma, incide tanto, perché praticamente sul tempo sul giro è anche un secondo. Moltiplicati per 200 giri, fanno 200 secondi, abbiamo perso più di un minuto e passa. 200 secondi sono 3 minuti e 20. Sì, era all'incirca, però comunque sia... Vabbè, che lì i distacchi possono essere anche consistenti, visto che parliamo di corse molto lunghe. Vabbè, comunque dai, 2019 è da archiviare, che è archiviato sicuramente in modo più che soddisfacente, in modo anzi molto positivo. E adesso andiamo nel 2020. 20, 20, 20, quando mi fai i 20 anni, quando li fai i 20 anni? Il 21 li faccio il 4 luglio. Ah, è vero, Born on 4 July, no? Come il film, con Mel Gibson, forse, non mi ricordo. Va bene, ci fermiamo, pausa pubblicitaria. Ci sono tante cose, come si dice, che bollono in pentola per il 2020. Vedremo ancora altre immagini, ne parliamo naturalmente con Riccardo Pera. Tra poco. Eccoci tornati per questa puntata di Rombo di Motori, in compagnia di Riccardo Pera, che naturalmente non ha bisogno di troppe presentazioni. Riccardo, abbiamo parlato nella prima parte del 2019, abbiamo detto che è stata un'annata, un anno sicuramente molto buono. Abbiamo raccontato delle tue vittorie, dei tuoi successi, anche di qualche sconfitta, perché poi nel mondo dello sport è così, ed è giusto che sia così. Sì, senti, 2020, 2020 intanto è un anno un po' particolare, perché siamo entrati nel nuovo decennio, e niente, è un programma molto fitto quello che ti aspetta. Cominciamo dal mondiale, perché l'hai detto prima, fra un paio di settimane, quando è il febbraio? Fine febbraio, il 22. Ah, qui, fra un mese, fra un mesetto, poco più, in Texas, sono ancora quattro prove del mondiale. Esatto, perché il campionato del mondo si sviluppa su due anni, un po' come il campionato di calcio. Sì, sì, sui due anni solari, 19-20 e poi ricomincerà... 20-21. 20-21 e così. Sì, hai voglia di un po' di riscatto in questo momento? Beh, sì. Volete far vedere al mondiale che valete più dei risultati ottenuti? Ma intanto abbiamo, sì, queste quattro prove, in cui saranno Texas, avremo poi Sebring in Florida, e poi la Spa-Franco-Champ, e la gara, diciamo, più importante, penso, automobilistica in tutto il mondo, la 24 ore di Le Mans. Le 24 ore di Le Mans, vi veramente non occorre dire nulla. Noi intanto adesso, mentre parliamo del mondiale, abbiamo anche le immagini di Shanghai, credo che siano quelle di Shanghai. Senti, niente, sono naturalmente fatte dall'interno, credo, della tua... Sì, è un camionato della macchina. A Shanghai, mi dicevi, com'è andata? Ma a Shanghai, se non ricordo male, questa gara qua, anche qua, mi ricordo... Anche questa è la pista dove fanno... Sempre la Formula 1, sì, sì, sì. A Shanghai, se non ricordo male, abbiamo concluso, mi sembra, quinti o sesti, non ricordo. Praticamente, anche qua abbiamo avuto, mi sembra, un po' di sfortune con la safety car, con l'entrata della, diciamo, della macchina di sicurezza, che abbiamo avuto... eravamo praticamente fuori strategia, la gara è troppo... Cioè, questa qui era una gara di sei ore, purtroppo non avevamo... eravamo fuori strategia, nel senso che avevamo sbagliato il tempo di rientrare box, il nostro ingegnere aveva fatto un piccolo errore e purtroppo... E l'avete pagato duramente. Senti, questo 1, 2, 3, 4, che sono le marce? Sì, questo qua, tra l'altro, questo qua era un sorpasso a una Ferrari. Ah. Sì, le marce che vedete sono quel quarto adesso. Vedi, c'è proprio il tuo computerino lì davanti. Sì, praticamente questo qui è quello che noi vediamo all'interno della macchina, praticamente. Lo vediamo sul nostro dashboard. Tu cosa vedi, a parte le marce, no? Vediamo la velocità. Quelle le vedrei anch'io, però. Esatto, no, vediamo le marce, la velocità, il giri motore, il tempo sul giro, vediamo anche le pressioni delle gomme, la temperatura dell'olio. Qui avete un po' tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo, sì, sì. E contemporaneamente ce l'hanno anche... E ce l'hanno anche i box, esattamente. Senti, c'è voglia di riscatto, dai, per questo mondiale. Siete a metà e finora le cose non sono andate proprio come volevate. Quindi nel 2020 volete dimostrare che... No, certamente, certamente. Che l'equipaggio Dempsey-Proton è più forte di quello che si è visto. Ma, sì, certo, anche perché comunque nell'europeo abbiamo fatto delle buone prove. La gara del mondiale a Spa del campionato, diciamo, 2018-19, abbiamo vinta quella a maggio. Eravate andati molto forti. Quindi nel senso le potenzialità le abbiamo. Purtroppo, ti ripeto, sono gare lunghe, possono andare storte, come possono andare bene. Dove l'imprevisto c'è. Ma lui è mai venuto? Lui è mai venuto a vedervi? No, verrà la 24 ore di Le Mans. Verrà, ricordiamo di chi stiamo parlando. Patrick Dempsey. Verrà, che dà il nome anche al vostro team. Va bene, possiamo lasciare queste immagini molto belle, dove Riccardo ci ha spiegato anche un po' il... Poi sai, al di là di tutto, hai tutto sotto controllo, poi bisogna andare forte comunque. Esattamente. Che la macchina ti risponda. Senti, abbiamo detto del 2020, ma non solo campionato del mondo, perché farai il campionato europeo? Questa è un po' la prima al di là di... Il campionato italiano, sì. Soprattutto il... Il campionato italiano. Il campionato europeo invece, poi ne parliamo... Torni nel campionato italiano, perché io ti ho detto, ma perché? Non pensi che sia un passo indietro? E tu mi hai risposto invece, no? No, perché praticamente il campionato europeo, sempre col team B-Motors, che è il team con cui ho iniziato nell'automobilismo, quindi diciamo... Quello che ti ha lanciato, dai, la B-Motors di Varese, no? Esattamente, sono rimasto come un figlio per loro, quindi loro hanno visto il mio calendario, hanno visto i vari weekend liberi e quindi comunque mi stanno piazzando in varie gare, anche perché, quindi farò il campionato italiano sprint, siccome il campionato italiano sono divisi su due prove, su due campionati, il campionato italiano sprint e la endurance, che sono gare, la endurance di tre ore e le sprint invece di un'ora. Ecco, le sprint si è in due, no? In due. In due. Con la Porsche Cayman. Con la Porsche Cayman GT4. Campionato italiano sprint GT4. Poi c'è la endurance, campionato italiano, stiamo sempre parlando GT3 con la Porsche 911 GT3R. R, sì. Sono preparatissimo perché prima me l'ha detto e me lo sono scritto, altrimenti... Come fare a ricordarli? Entrambi qua, su queste due macchine qua, ho grandi amici, quindi comunque per me è un piacere tornare anche a fare questi campionati, però cercano di aiutarli a fare buoni piazzamenti. Perché per te la Heavy Motors è una, possiamo dire, senza esagerare, una seconda famiglia, quindi campionato italiano e farai, mi sembra di capire... Otto prove. Otto prove, quindi sarà un bel impegno anche tu. Otto prove, forse... Sono due mesi in cui correrai nel campionato italiano in pratica. Esattamente sì. Molto fine settimana, quindi il tuo calendario, mi sembra di capire, sarà molto finito. Rimane invece ancora un punto interrogativo, mi sembra di capire, sul campionato europeo. Sì, il campionato europeo stiamo ancora definendo, stiamo parlando degli ultimi dettagli, diciamo, cercando di capire un po'. Penso... vediamo, stiamo parlando, però ancora di ufficiale non c'è niente. ufficiale, per ora sono quelle cose di cui ti ho parlato, poi il campionato europeo. Appena avrò notizie ti farò sapere. La Porsche che dice? Che ti hanno detto? Ah, tra l'altro ricordiamo, nel 2019 sei stato anche su da loro. Loro hanno, mi sembra, il quartier generale a Stoccarda. A Stoccarda che è nel sud della Germania, no? Esatto, sì. Si è stato su e quindi hai avuto, devo dire, lo so, adesso io lo dico perché magari tu non l'avresti detto, hai avuto anche degli attestati e dei riconoscimenti che per un ragazzo insomma di 20 anni non credo sia capitato frequentemente per una casa, una scuderia importante come la Porsche a livello mondiale. No, è vero, questo è stato un anno in cui abbiamo fatto buoni risultati, mi sono fatto, diciamo, vedere, quindi loro sono rimasti molto contenti e niente, spero di, insomma, stiamo continuando appunto le prove del mondiale da finire, da concludere e poi parleremo poi per il 2020. Eh, qui ora voleva arrivare, ma è un po' di tedesco, l'hai imparato, no? Non serve? O si parla inglese anche lì? Ormai? No, allora… Fammi capire perché, se arrivi lì e gli parli in tedesco, sono convinto che quelli della Porsche, quanto c'ha questo nella scheda? Valutazione 90? 100? No, no, lo dico così, no? O parlano inglese, io vado alla Stoccarda, vado alla Porsche in Germania e anche lì c'è un italiano, ma si parla inglese, è così? No, lì si parla solo inglese purtroppo, cioè purtroppo. No, no, ma guarda che il tuo lazzo sfrodiano mi piace, eh? No, ma no, ma perché dico, ma perché? Vieni in Italia, accidente, e parliamo un po' di italiano, no? No, 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 ma lì… Ma in Germania parla tedesco. Lì il team di Dempsey Proton, insomma, comunque sono tutti tedeschi e lavoriamo con… persone della Porsche all'interno del nostro team, sono tutti tedeschi, però la lingua è l'inglese. Come da tutte le parti. Io me lo ricordo, dalle mie rimembranze di gioventù, quando facevo un altro lavoro e lavoravo negli alberghi, i tedeschi, già allora, ti parlo di 30-40 anni fa, i tedeschi parlano il tedesco, che è una lingua, molti dicono complicata, relativamente, e… poi parlano l'inglese, tutti, perfettamente. Esatto, no, no, quello… Signori, noi in Italia non siamo così, ma i tedeschi parlano tutti, il 90%, forse anche di più. L'inglese, quindi per loro parlare l'inglese è come per noi parlare l'italiano. No, ma infatti, ma poi anche le comunicazioni via radio, all'interno della macchina… Tutto in inglese. Sì, quindi, ecco, la lingua è quella. Poi, vabbè, qualche battuta, parola, diciamo, un po' così scortese. Ma non hai imparato nulla il tedesco? Sì, qualche parolaccia. Cos'hai imparato? No, no, parolaccia. Cos'hai imparato? No, non mi devi dire parolaccia. Ma adesso ci dovrei pensare, però… No, qualche, diciamo, come si dice, buon appetito. Come si dice? Malzeit, mi sembra. Malzeit. Non lo so, io adesso non dico nulla. Ma va bene, dai. Senti, mondiale, adesso finirai. Questo mondiale 19-20 e le ultime immagini che ci abbiamo, casualmente, guarda dove ci portano, appena Pedini le farà partire. È chiaro che… stai pensando perché… dove siamo qui? No, qua sempre… sempre quella gara di prima che ti ho raccontato. Non siamo alle mani. No, no, no. Non siamo alle mani, scrivi. No, questa qua è sempre la gara del sorpasso, la Ferrari… È la stessa? È la stessa, sì, la stessa gara. Ma è quella… dove eravamo qui allora? Questa qua non è l'europeo e nel mondiale. Questa qui è un'altra gara che ho fatto ad estate, a luglio, che era un altro campionato, ecco. No, ero convinto di aver messo quelle di Le Mans, mi scuso. Vabbè, senti, mondiale 2020-2021, ci stai pensando? Perché è chiaro che, insomma, vai a dare una mano ai tuoi amici della Heavy Motors, se va bene. L'europeo siamo lì, però è chiaro che, insomma, uno guarda sempre avanti e cerca sempre, no? Step by step di… ci stai pensando? Ma, ascolta, ovviamente sì, ci sto pensando, però queste sono, diciamo, cose in cui adesso io non posso fare assolutamente niente. Devi aspettare. Devi aspettare, sì. Devi aspettare. Non hai avuto nessun segnale per ora, no? No, vabbè, sono rimasti contenti comunque anche del campionato europeo che siamo negli 15 campioni. E quindi questo cosa potrebbe… il tuo sogno nel cassetto, dai, se lo vuoi dire. Vabbè, magari una riconferma nel campionato europeo, poi dopo riparleremo. Ah, partendo tanto da quello. Sì, che quello, diciamo, stiamo già definendo, però poi per il mondiale è ancora presto, comunque riparte, diciamo, dopo l'estate, quindi… E tu hai un grosso vantaggio, lo sai, rispetto, al di là della tua abilità, della tua bravura, di tutto quello che noi possiamo dire, forse noi siamo anche di parte e forse possiamo anche, io credo di no, ma possiamo anche esagerare, però Riccardo Pera ha un grosso vantaggio, un enorme vantaggio, che credo sia di gran lunga, già nell'europeo, ma è ancora più nel mondiale, forse, non so se sei il pilota più giovane, ma sicuramente… e ce ne sono tanti a queste gare, ci sono 30, 35, 40 macchine, ma credo che sei uno dei più giovani. Uno dei più giovani, sì, sì. In assoluto. Esattamente. Quanti altri ventenni ci sono che fanno? Pochissimi, ma forse si contano solo di una mano, forse. E quindi questo direi che è un vantaggio non indifferente per te. Va bene, dai Riccardo, siamo arrivati in fondo, mancano, come vedi, 50 secondi, quindi appuntamento ad Austin, ma è stato ad Austin in Texas? Com'è stato, mi sto allenando il simulatore… E quindi, in pratica, il circuito ve la lo conosci già? Sì, no… Che circuito è? Ma è… Ti piace? Ma ascoltate, il simulatore è un circuito molto affascinante e anche molto tecnico. Mi sto allenando, diciamo che comunque credo non ci siano problemi, ecco. Tanto poi arriveremo laggiù, avremo prove libere, quindi nel tempo di girare ce l'abbiamo. Ho capito, quindi vabbè. Lì, vabbè, parlano… parlano in inglese, no, parlano americano, americano che… Inglese americano. Se uno non conosce bene l'inglese, secondo me, quando vai negli Stati Uniti e parlano l'americano, io non ci sono mai stato… È un problema, secondo me. È un problema, perché tutto questo slang, no, quasi che non… Sì, sì. La lingua più bella qual è? Dimmi la verità. Ma penso l'italiano. No, no, come penso l'italiano, non ci sono… Italiano. Va bene, dai Riccardo, è stato un piacere averti con noi, come sai, noi, insomma, grazie anche a tuo papà Carlo, che stasera addirittura non avevamo ancora nominato, insomma, che ci racconta e ci fa sapere tutto di te, ti fa da manager, ti fa… Continuiamo a parlare di te, no? Continuiamo a parlarne, sperando davvero di celebrare anche in questo 2020 tanti bei risultati, io non dico altro, perché poi nel mondo dello sport siamo tutti un po' scaramantici, in bocca al lupo per tutto, poi ci ritroviamo nel corso del 2020, pensati 2020 e ringraziamo anche Matteo Bedini, noi torniamo mercoledì prossimo, sempre intorno alle 23 e andremo a celebrare, andremo a parlare di rally, perché poi sai, ora Riccardo, poi tra meno di due mesi c'è il rally del ciocco, quindi cominciamo a proiettarci un po' anche il rally del ciocco, parleremo un po' di più di rally. Grazie Riccardo Pera. Grazie a voi. Grazie, salutami Austin e Texas, grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima settimana con Rombo di Motori.